Allora, riprendiamo da qua, dal concetto di variabile, per vedere poi questo concetto come si mappa nei costrutti del linguaggio, nella sintassi del linguaggio. Allora, creare una variabile nuova in Python è banale, basta scrivere il nome di una variabile nuova uguale a un valore iniziale che vogliamo dare a questa variabile. Quindi, semplice, prima avevo scritto A uguale 7, no, cosa avevo scritto? Ce l'ho ancora qui. A uguale ciao, B uguale 7. Scrivere B uguale 7 significa fare due cose contemporaneamente. Creare una nuova variabile che prima non esisteva, che si chiama B, cioè se io vado alla prima istruzione, eseguo la prima, vedo che esiste A ma non esiste ancora B. La variabile in Python non vanno dichiarate all'inizio, la creo quando mi serve e nel momento in cui mi serve le do un nome e le do un valore iniziale. Quindi questo in gergo si parla di definizione di una variabile, cioè dico che esiste, la creo e inizializzazione della variabile, cioè decido qual è il valore iniziale di questa variabile, che da quel momento avrà, o meglio farà riferimento a quel valore, fino a quando non lo cambierò. E per cambiare il valore una variabile uso una sintesi che è la stessa. Nome della variabile uguale valore presumibilmente diverso da quello precedente, che è quello che ho fatto poche righe sotto dove ho scritto B uguale ABC. Ho riassegnato un nuovo valore a una variabile che già esisteva e aveva già un valore precedente. Non me ne accorgo quasi, nel senso che il modo di scriverlo è esattamente lo stesso. La differenza tra i due è che nel primo caso la variabile lattine non era mai stata usata prima e quindi la prima volta che la uso, la prima volta che vi assegno un valore viene anche creata la variabile stessa. Le volte successive viene semplicemente ridisegnata la freccia, cioè questa stessa variabile adesso punterà a un valore diverso. Ogni variabile fa riferimento nella sua vita a un solo e uno e un solo valore per volta, quindi ogni volta che assegno un nuovo valore a una variabile esistente sto automaticamente dimenticando il valore precedente, da quel momento in avanti. Quindi tutte le istruzioni che verranno eseguite dopo faranno riferimento al valore nuovo. Se poi la cambio di nuovo, allora a questo punto le istruzioni che verranno eseguite ancora dopo faranno riferimento al terzo valore che ho segnato e così via. Quindi non c'è un matrimonio né tra il nome della variabile e il valore, neanche tra il nome della variabile e il tipo di questo valore, stringa o testo. È semplicemente un'assegnazione temporanea che può essere cambiata in qualunque momento. La sintassi è molto semplice da questo punto di vista. Devo dare sempre quando creo una variabile, visto che la sintassi è questa, sono sempre obbligato a dare un valore iniziale. Non posso creare una variabile, come si fa invece in altri linguaggi, e dire ok adesso definisco la variabile e poi dopo gli darò un valore. Quindi praticamente in Python è impossibile avere una variabile non inizializzata, cioè che non abbia un valore iniziale, perché non c'è modo di crearla se non con questa sintassi che automaticamente assegna anche un valore iniziale. Questo permette di evitare tutta una po' veloce perché queste cose qua le abbiamo già viste e le vedremo con gli esempi, quindi preferisco molte volte schippare delle parti di slide per magari soffermarci su esempi fatti insieme, però le slide vi rimangono anche come testo di ripasso. Sottolineo solamente i concetti nuovi. Ricordiamoci, l'avevamo già accennato la volta scorsa, questo segno di uguale non è né un uguale matematico che implichi un'identità per sempre, per i secoli dei secoli, né un uguale di confronto. In Python vediamo, abbiamo già accennato, rivedremo meglio che il confronto tra due valori, mi chiedo se A è uguale a B, si usa un simbolo diverso, si usa il doppio uguale. Questa è un'operazione di assegnazione di un valore, si chiama assegnazione perché assegna un nuovo valore a una variabile esistente oppure di inizializzazione perché crea un valore iniziale. La sintassica stessa cambia solamente se la variabile è già stata definita o no. E sulla sinistra di un segno uguale ci sta il nome di una variabile, nuovo o esistente. Sulla destra del segno uguale che cosa ci può stare? Ci può stare una qualunque espressione, come qualunque valore specificato direttamente, B uguale 3, oppure calcolato attraverso un'espressione aritmetica, dando somme, sottrazioni, concatenazione di string, altre funzioni matematiche, quello che volete. Sulla destra dell'uguale ci può stare una cosa anche molto complicata perché alla fine calcoli un valore. L'operazione di assegnazione lavora in due fasi ben distinte. Prima va a vedere a destra che cosa c'è e calcola il valore. Poi di questo valore lo prende e lo fa, lo collega alla variabile che sta alla sinistra. Quindi per dire se io faccio A uguale 3, B uguale 4, sto inizializzando due variabili. Poi se scrivessi, e vabbè, C uguale A più B, devo leggere, fa 7, vabbè, però pensiamo che cosa succede a livello microscopico. Quella è un'istruzione di assegnazione, uguale. Allora Python prende, prima guarda a destra, fregando il segno di che cosa ci sia sinistra. E dice, va bene, qui c'è un'espressione arimetica, A più B. Cos'è A? A è una variabile il cui valore corrente al momento è 3. In questo momento, cioè quando eseguo la riga 4, la variabile A vale 3. Perché magari poi subito dopo la variabile A vale 99, ma dopo, quando eseguo la riga 4, A non vale ancora 99. Quindi devo osservare il valore a cui la variabile fa riferimento nel momento in cui viene usata, nel momento in cui ne utilizzo il valore. Quindi quando il nome di una variabile compare dentro un'espressione, quindi ad esempio a destra dell'uguale, sto andando a recuperare il valore a cui tale nome faceva riferimento, in questo momento. Quindi al posto di A metto 3, al posto di B metto 4 perché in quel momento la variabile B fa riferimento a un valore intero che è 4. Quindi vado a recuperare i valori correnti delle variabili e faccio l'operazione indicata, in questo caso una somma arimetica, tra numeri interi. Il risultato è a sua volta un numero intero che vale 7 e questo è il valore del lato destro dell'istruzione di assegnazione. Quindi ho creato un valore 7, quindi nella parte destra lì è come se comparisse un nuovo valore, int 7. Questo valore verrebbe calcolato e abbandonato per sempre, se io non lo prendessi subito e non lo memorizzassi in una variabile nuova o esistente, attraverso l'assegnazione, andando quindi a vedere al lato sinistro di quest'uguaglianza e sto dicendo guarda questo valore che ho appena creato, che è un valore effimero per ora, potrebbe scomparire subito, io me lo salvo in questo nome. E quindi quando faccio c uguale a più b, ho creato un nuovo variabile c che fa riferimento al valore 7 che appunto è il valore calcolato dall'espressione che ha fatto un'addizione tra due valori di due variabili che esistevano già. Poi c uguale a più b fa 7, non ci stupisce, però se capiamo bene il meccanismo anche nel caso di espressioni più complicate, ad esempio se io scrivessi c uguale c più a potrebbe essere forse un pelino da pensare cosa succede, perché appunto se mi approccio con la matematica a questa espressione c uguale a c più a, voi mi dite no è falso, è impossibile, a meno che a sia uguale a 0, ma qui non stiamo facendo nulla di questo genere, ok? Non è un'equazione questa, qui stiamo dicendo senti prendi il lato destro dell'uguale, l'espressione che compare al lato destro dell'uguale, c più a, cos'è c? 4, cos'è a? No scusate, cos'è c? 7, cos'è a? 3, e allora sta roba qua altro non è che 10, altro non è che 10, che è un valore intero pari a 10, ok? Questo valore 10 effimero che ho appena calcolato, il risultato dell'espressione, cosa ne faccio? lo salvo nella variabile c, la variabile c c'è già? Sì, vabbè, allora vuol dire che dimentico il valore precedente e assegno quello nuovo, e quindi quando esempio costituzione c varrà 10 e non più 7, il fatto che la stessa c che c'era a destra dell'uguale fosse la stessa c che c'era a sinistra dell'uguale non è importante, non se ne è neanche accorto Python, non gli interessa perché fa due cose in due momenti diversi, qui non è che adesso dice, oh ma caspita però adesso ci vale 10 quindi devo fare 10 più 3, no, mi fermo, quell'istruzione 5 l'ho eseguita, vado avanti, non faccio dietrologia del tipo ma nel frattempo mi è cambiata la variabile che ho usato prima, no, è tutto molto più semplice, molto più operativo, molto più passo passo, quindi in questo caso abbiamo fatto un aggiornamento di una variabile, no, a volte lo chiamiamo così, c'è una variabile il cui nuovo valore dipende dal valore precedente della variabile stessa, nulla di strano, ricordiamoci sempre solo, prima si guarda a destra, poi si guarda a sinistra e guardare a sinistra serve solamente per salvare questo valore da qualche parte, se io non salvassi questo valore da nessuna parte, quindi dimenticassi il c uguale, sintaticamente è corretto, questa istruzione qua non fa nulla, nel senso che calcola 7 più 3 che fa 10 e poi quel 10 lo dimentica perché non l'ha messo da nessuna parte, non l'ha usato da nessuna parte e come vedete c non è cambiato, è rimasto 7, mentre invece facendo c uguale, quindi questo 10 calcolato e dimenticato lo posso memorizzare in c e allora mi cambia la logica di c, oppure lo posso memorizzare in d e allora creo una nuova variabile, rimane il 7 e si crea anche il 10. La regola base è semplice, poi è chiaro che le combinazioni sono le più diverse. Quindi l'aggiornamento di una variabile è un caso particolare dell'assegnazione, cioè segno un nuovo valore, una variabile che esisteva già. Attenzione che però questa variabile deve esistere, perché se io provassi a spostare questa riga sopra, questo codice non funziona più, perché alla riga 4 cosa c'è scritto? C uguale C più A. Ok, cosa fa Python? Va a vedere il lato destro dell'uguaglianza, c'è scritto C più A, un'addizione tra che cosa? Tra il valore di C, cos'è C? Non ce l'ho C. Alla riga 4 C non è ancora definita. Sì, ma la stai definendo adesso? Eh no, dopo. Al lato sinistro, il lato sinistro lo guarderò dopo, che avrò ottenuto il risultato completo del valore del lato destro. Quindi nel momento in cui valuto il lato destro la variabile C non esiste ancora. Non l'ho inizializzata mai, non l'ho definita mai e quindi se provo eseguire questa istruzione ottengo questo bel errore. Name C is not defined. Non è ancora, no, verrebbe da dire. Non è ancora definito quando alla riga 4, perché lo stai definendo ma nella sua definizione stai cercando di usare già quel valore. Quindi questa è la protezione che ci dà Python contro le variabili non inizializzate. Se una variabile non ho ancora dato un valore iniziale non potrò mai, non ho ancora dato, lo dico più lentamente, se una variabile non ho mai dato un valore iniziale non potrò usare quella variabile. Perché il nome non esiste ancora. Nel momento in cui ho dato un nome a questa variabile la posso usare quante volte voglio e posso ridefinire con delle nuove assegnazioni il valore quante volte voglio. Ok? Vabbè, qui sono degli esempi ma non... Abbiamo parlato di valori. Valori, abbiamo visto per ora due tipi di valori. L'intero e la stringa. In realtà esiste almeno un altro valore importante che è il numero reale, il numero frazionario, cioè un numero non intero, un numero frazionario. E qui c'è un terzo tipo di valore che si chiama float. Quindi si scrive, prendo sempre il Python Tutor, se anziché 4 scrivesse 4.5. Attenzione, usando il punto decimale e non la virgola. La virgola abbiamo già visto che serve per separare i parametri delle funzioni, quindi creerebbe solo confusione. Quindi i numeri frazionari si scrivono col punto decimale. non con la virgola decimale. Quindi in questo caso vedete che b vale 4.5 che è di tipo, c'è scritto float e non int. Float sta per floating point che ricorda la rappresentazione in floating point dei numeri e poi faremo una lezione sulla rappresentazione in virgola mobile dei numeri reali. A noi non cambia molto, nel senso che entrambi sono numeri. numeri interi possiamo presupporre che usino meno memoria e siano un pochino più veloci per l'elaboratore. Fermiamoci così a questo momento, mentre invece i numeri reali sono un pochino più complicati da gestire per il computer, ma per noi non cambia assolutamente nulla. Allora se io facessi a più b cosa succede con questa nuova assegnazione di b uguale a 4.5? Che c vale 7.5 che a sua volta è un numero reale. Allora che cosa ha fatto qua Python, ha preso questa operazione di somma, ha visto chi era il suo primo operando A che è un intero, ha visto chi era il suo secondo operando B che era un floating point, un numero reale e si è chiesto, posso, sono capace a sommare un numero intero e un numero float? Sì, e il risultato sarà un numero float. Quindi in qualche modo automaticamente converte i tipi. Mentre invece noi sappiamo già bene che se questo 3 anziché un numero intero fosse una stringa, quell'operazione c uguale a più b, sembra sempre un 3 ma in realtà è una stringa, non si può fare perché la somma tra stringhe deve essere fatta una stringa più una stringa o un numero più una stringa, no, una stringa più una stringa oppure un numero più un numero ma non una stringa più un numero perché non hanno senso. Questo lo scopre ovviamente nel momento in cui fa questa operazione, perché solo allora l'operatore più può conoscere qual è il valore di A e il valore di B e quindi anche capire qual è il tipo di questo valore e quindi capire se ha senso fare questa operazione oppure no. Allora, quindi Python fa le conversioni di tipo opportune automaticamente, non è un errore sommare un intero più un float perché ha senso farlo matematicamente. Non fa il segnalo come errore ma invece quelle combinazioni che non hanno senso, che non sono previste, dalla ritmetica delle stringhe non prevede la somma con un numero o la ritmetica dei numeri non prevede la somma con una stringa, mettetelo come volete. Quindi il tipo di dato, cioè intero oppure floating point ancora una volta è associato al valore e non alla variabile, quindi dipende dal valore che c'è da dentro e dal risultato dell'operazione. Questo l'abbiamo già visto e questo pure. Anche questo può solo concatenare stringhi con interi, facciamo gli esempi in modo diverso. Quindi adesso l'operazione più con le stringhe lo vedremo meglio quando parleremo diffusamente delle stringhe si può usare tra stringhe e stringhe e significa la concatenazione. Tra numero e numero invece è un'operazione aritmetica. Allora, due flash sulla sintassi. Come posso scrivere i numeri in Python? Finché scrivere 3, scrivo 3, purché sia fuori dal virgolette allora è inteso come numero, se fosse dentro le virgolette sarebbe inteso come stringhe. I numeri interi li posso scrivere normalmente, eventualmente con segno meno davanti se sono negativi. In Python non esiste una dimensione massima al numero, quindi non c'è un limite massimo al numero intero che si può rappresentare. Python usa tanti bit quanto gli servono per rappresentare qualunque numero. I numeri floating point vengono riconosciuti dal fatto che hanno la virgola decimale, il punto decimale, scusate, non si usa in italiano ma lo diciamo così. Quindi 0.5 è un numero floating point. 1.0 è anch'esso un numero floating point, perché è scritto come, anche se la parte frazionaria è 0, per come l'ho scritto sto dicendo all'interprete Python, guarda che io lo voglio trattare come un numero reale. Quindi se scrivo 1 è un valore intero, se scrivo 1.0 è un valore float, ossia reale. Poi i numeri reali si possono anche scrivere in notazione scientifica, come sulle calcolatrici. 1 e 6 vuol dire 1 per 10 alla sesta, cioè un milione. Quindi si usa la lettera E per indicare la potenza del 10 da applicare alla mantissa, al valore precedente. Questa potenza del 10 può essere positiva, quindi questo è un milione, oppure può essere negativa, 2,96 per 10 alla meno 2, che fa 0,0296. Sposto verso i due posti della virgola, quindi 0,0296. Ah, ce l'ho anche scritto qua. Questi sono gli unici modi di rappresentare i numeri, ok? I numeri interi o i numeri reali. Poi se volete, più avanti vedremo che ci possono anche rappresentare i numeri complessi, quindi quando avete bisogno di fare i calcoli di numeri complessi li potete fare, la calcolatrice complessa ce l'ha, diciamo così, integrata anche il Python. Questo per quanto riguarda i valori. I valori numerici seguono altri caratteri, tipo usare la virgola per separare migliaia o per separare la parte decimale, non si possono usare, punto. Quindi la regola è molto semplice. Dobbiamo adeguarci alla sintassi del linguaggio. E ci sono anche delle regole sui nomi delle variabili. Le chiamate ABC, ma da adesso in avanti cercheremo di non chiamarle più ABC le variabili, cercheremo sempre di dare alle variabili un nome che rappresenti il significato del loro contenuto. Quindi se A e B sono i due lati di un triangolo preferisco chiamarli lato 1 o lato 2, che non A e B. Così mi ricordo che cosa contiene. Però non le posso chiamare lato 1 e lato 2, perché lo spazio non è un carattere accettato nel nome di una variabile. Quindi io posso comporre il nome di una variabile solamente combinando dei caratteri accettabili, che sono le lettere, i numeri e alcuni segni di punteggiatura, come tipicamente l'underscore. Quindi lo posso chiamare lato 1, tutto attaccato, lo posso chiamare lato underscore 1, che forse è più leggibile, e questo è un nome di una variabile. Altri caratteri non sono permessi. Il punto no. Il punto lo useremo per chiamare dei metodi sulle variabili, e quindi non lo possiamo usare come parte del nome. E quindi ovviamente qua dovrò scrivere lato 1 e lato 2. Attenzione alle maiuscole, perché se io scrivo lato con l maiuscola, è una variabile diversa rispetto alla variabile lato con l minuscola. Quindi maiuscole e minuscole fanno la differenza. Normalmente in Python si tendono a dare dei nomi sempre in minuscolo, e se il nome è composto da più parole, si usa un underscore, un segno di trattino, per separare le varie parole. E il cosiddetto codifica a serpente. Non so se c'è un slide più avanti. No, vabbè. Ci sono vari, quando hai dei nomi lunghi per le variabili, ci sono vari modi di scrivere questi nomi. E i vari linguaggi di programmazione più o meno hanno... Allora, sono tutti validi, ma ogni linguaggio di programmazione ha le sue preferenze. Quindi se io volessi indicare, come dicevamo la volta scorsa, il nome più frequente, in Python lo scriverei nome underscore più underscore frequente. Ah, tra l'altro... è uguale, però la mettiamola così. Se no è un neurosintassi. Tra l'altro, volendo, anche le lettere accentate si possono usare nei nomi. Poi però c'è il rischio che poi quando fate copia e incolla nelle mail o cosa, queste lettere accentate si perdano, perché alcuni programmi non trattano correttamente i caratteri estesi, gli unicode, parleremo di unicode quando parleremo delle stringhe. Quindi di solito si cerca di evitare, si cerca di rimanere sulle 26 lettere di base. Questo è un modo. Si cerca di non scrivere delle variabili così. Perché sono poco leggibili. Tutto attaccato. Quindi l'unico carattere che si può usare in mezzo è l'underscore. Ci sono altri linguaggi, tipo i linguaggi della famiglia Java, dove il suggerimento è di scriverlo così. Cioè mettere una lettera maiuscola all'inizio di ogni parola di cui è composto il nome. Ok? Questa convenzione si chiama Camel Case. Case sta per maiuscolo o minuscolo, no? Cammello, no? Perché ogni tanto c'è una gobba. Mentre invece la convenzione con l'underscore è chiamata Snake Case. Perché è un serpente. Che striscia a terra ogni tanto. Con tanta fantasia chiaramente. Quindi normalmente in Python si tende a usare... Non cambia niente. Sono tutti i nomi di variabili validi in qualunque linguaggio. È solo una questione di preferenza e di convenzione in cui normalmente alcuni linguaggi previscono una forma oppure l'altra. Il libro vedo che usa molto spesso il Camel Case. La documentazione di Python invece usa sempre lo Snake Case. Scegliete anche voi la vostra preferenza. Non è un problema. La differenza che c'è... Anche qua non cambia nulla ma potremmo anche dire... Usare tutto in maiuscolo. Nome frequente. Più frequente. Quindi in questo caso è, come si dice in inglese, all caps. Tutto in maiuscolo. All capital. Ecco. Per convenzione, anche qua, non è una regola fissa. Possiamo scegliere il nome che vogliamo. Ma di solito si usa il tutto in maiuscolo per delle variabili che non devono cambiare mai. Che hanno un valore che non prevediamo e non vogliamo che cambia all'interno del programma. Cioè, le cosiddette costanti. In Python non esiste il concetto di costante. I valori sono costanti. Un valore 7 è sempre 7. Ma la variabile può sempre cambiare. Non c'è modo di creare una variabile dicendo, guarda, questa variabile non può cambiare. Non c'è, non è previsto dal linguaggio. Siamo noi però, nel scrivere i programmi, che ci diamo un pochino di disciplina e diciamo, vabbè, questa qua è una costante all'inizio, no? Se io devo definire che pi greco è uguale a 3,14. Cioè, non è che poi a metà pi greco cambia, no? E allora, per ricordarmi che quella è da trattare come una costante e anche per ricordarmi di non cambiare il valore, perché se lo scrivessi mi salta all'occhio, le costanti le scriviamo tutte in maiuscolo. Non c'è nessuno che ci vieta di trattarle come variabili e di farle cambiare, ma siamo noi stessi che ci diamo una regola e la seguiamo, per comodità nostra. Quindi, è frequente vedere all'inizio dei programmi, nelle prime righe, la definizione di costanti su cui poi il programma lavorerà, ovviamente. Le definiamo all'inizio, le inizializziamo con un valore e sappiamo che quel valore non cambierà più per tutto il resto del programma. Mentre invece le altre variabili, quelle che contengono dei valori, che cambieranno, evolveranno, dipende da cosa ho letto dall'utente, dipende da un calcolo che ho fatto, allora quelle invece le definiamo con dei valori, con delle lettere minuscole. Almeno l'iniziale deve essere minuscola. Perché come vedete in tutte queste forme, questa non la usiamo mai, dai cancelliamola, tutte queste forme, la costante è che la prima lettera, anche nel camel case, la prima lettera è sempre minuscola. Per distinguerli dalle costanti. Distinguiamo le regole delle convenzioni. La regola è, puoi avere qualunque combinazione di lettere e numeri underscore, purché non inizi con un numero, vabbè, perché sennò non puoi scrivere secondo lato, due lato, non è un nome valido, perché il 2 inizierebbe un numero e poi continua con la L e non ci sono numeri che... Però lato 2 sì. Qualunque combinazione di lettere maiuscole, lettere minuscole, underscore e numeri, è valida purché non inizi con un numero. Poi, per convenzione, non è che scriviamo le variabili strane come se fossero delle password, 27 underscore set, eccetera, ma ci diamo delle regole che ci permettono di aiutarci di fatto a riconoscere ciò che stiamo facendo. Attenzione che ci sono alcuni nomi di variabili che sono vietati o che sono problematici. Cioè, se io scrivessi print uguale 9, lo posso fare, ma sarei un pochino pirla, perché da quel momento in avanti non posso più fare print e usare print come funzione, perché quel nome non fa più riferimento alla funzione che si chiama print, ma al valore 9. Non è un errore, perché la regola è puoi definire qualunque tipo di variabile, però se tu come nome di variabile scegli il nome di una funzione della libreria, del linguaggio, sai che quella funzione non la potrai più usare. Quindi, ci sono dei nomi che è sconsigliabile utilizzare. Min e max, ad esempio, minimo e massimo, sono già due funzioni predefinite, quindi le nostre variabili cerchiamo poi di non chiamarle min e max, chiamiamole in modo diverso e così via. Poi, magari tu chiami una variabile con il nome di una funzione che esiste ma tu non la conosci. Ma va bene, se tanto non la conosci vuol dire che non avevi bisogno di usarla. Almeno quelle che conosci però evitale per chiarezza. Poi ci sono altre parole chiave invece che sono proprio vietate, che sono quelle del linguaggio. Ad esempio, penso, while è una parola chiave del linguaggio, non è una funzione di libreria, è una parola che serve per costruire, per fare dei costrutti e vedete che ti dà un errore di sintassi immediatamente. Quindi ci sono delle, cosiddette, parole riservate che non si possono usare come nomi di variabili e ci sono dei nomi di funzioni che è meglio non usare come nomi di variabili. Ma noi abbiamo una scappatoia molto comoda che è quella di scrivere i nomi delle variabili in italiano. Visto che il linguaggio e tutte le librerie usano dei nomi in inglese, noi scriviamo in italiano o in dialetto, come preferite, e siamo quasi tranquilli, quasi sicuri che non ci possono essere dei conflitti. Quindi è una cosa rara, però se vi capita un errore di sintassi che non riconoscete, provate a cambiare il nome, magari siete incappati in una parola riservata che non conoscete. Qui fa esempio di class, ad esempio, una parola riservata, che noi non useremo in questo corso, però il linguaggio la definisce. Ok, qui parla delle costanti, dice che le vogliamo battezzare in nome, usando lettere solo maiuscole, sui commenti abbiamo già parlato, abbiamo detto come si scrivono, quindi col cancelletto, e ricordiamoci che i commenti, anche se non servono a nulla a Python, invece servono molto al programmatore, perché voi scrivete un codice, ci lavorate, ci pensate, vi piace, funziona, lo salvate, tornate due giorni dopo, lo riaprite e non capite più niente. Dovete ricostruire, ma perché qui ho scritto questo, cos'era? Perché nel momento in cui scrivi il codice sei immerso in un ragionamento in cui quell'istruzione, in quel punto, ha senso per te. Quando poi lo riprendi a distanza, in cui il ragionamento è freddo, è dimenticato, devi andare a ricostruire il ragionamento. Allora i commenti sono la nostra ancora di salvezza che ci aiuta a ricordarci, a capire il significato dell'istruzione. Perché ho scritto quello? Non ovviamente che cosa scrivo quello, non vado a scrivere un commento del tipo sommo i due lati. È un commento inutile questo. Si vede, lato 1 più lato 2, visto che non sono stato pazzo da chiamare quelle variabili K e W, ma le ho chiamate lato 1 e lato 2, quando scrivo lato 1 più lato 2 è ovvio che sto sommando i lati. E quindi è inutile metterlo come commento, ma magari scrivo, che ne so, la prima parte del perimetro. Perché magari ho una figura complicata, allora devo calcolare il perimetro a pezzettini e questa è la prima parte. Allora spiego perché ho fatto quell'operazione. Non vado a spiegare cosa fa l'operazione, perché se la scrivo bene, in modo chiaro, si commenta da sola. Sembra di perdere tempo, sull'istante da commentare ciò che si fa, ma in realtà alla lunga, diciamo così, ci guadagniamo. Quindi abituiamoci ad aggiungere commenti. Qui è un esempio di un codice commentato. Ecco, io il trucco che uso è di scrivere prima i commenti e poi il programma. La settimana scorsa abbiamo lavorato sullo pseudocodice, no? Faccio questo, faccio questo, faccio quest'altro. Allora, lo pseudocodice io lo scrivo direttamente nel file Python sotto forma di commenti. E poi sotto ogni commento vado a scrivere le istruzioni che effettivamente fanno quell'operazione che mi serviva. Allora riesco in qualche modo ad andare avanti passo passo dall'idea allo pseudocodice, a un primo pezzo di programma, che contiene già le istruzioni magari del prima parte e poi i commenti di tutto il resto. Quindi arrivo solo fino a un certo punto, ma lo posso già cominciare a provare. E poi andare avanti così. Questo è il modo che ho trovato io, mi trovo bene, però ciascuno potrà avere il suo metodo. Per me scrivere il pseudocodice sotto forma di commenti mi permette di avere alla fine un programma che è già commentato. E mi permette, visto che lo pseudocodice lo faccio leggere anche alla paperella, di magari accorgermi che il ragionamento che stavo facendo è un po' troppo contorto e non detto che mi porti al risultato. Ok. Cosa posso fare poi con questi valori? Parliamo per ora di valori numerici. Ma posso fare le cose che ci si aspettava. Qui abbiamo messo per completezza un capitolo che si chiama aritmetica che alla fine stringi stringi dice in Python puoi scrivere qualunque espressione aritmetica usando le normali operazioni matematiche. insomma, situazione, moltiplicazione, divisione, eccetera, eccetera. Se devi scrivere una questione più complicata usa le parentesi tonde e annidale quanto ti serve. Metti parentesi di parentesi di parentesi non c'è problema. Python non perde il filo al massimo tu perdi il filo ma per fortuna hai l'editor che ti permette di quando sei su una parentesi ti fa vedere qual è quella corrispondente e te le conta per te. Quindi si può scrivere qualunque a volte uno dice ma io posso fare ma hai fatto vedere A più B ma posso fare A più B più C e certo che puoi. Cioè si possono usare le normali operazioni aritmetiche nel modo usuale. Python implementa normalmente l'aritmetica. Se i numeri che uso sono interi il risultato tendenzialmente sarà intero se i numeri che uso sono reali sono dei float il risultato tendenzialmente sarà un float. Sì? Python esegue applica le normali regole di precedenza aritmetiche quindi ad esempio in questa espressione che c'è qui che non so cosa voglia dire qui la vediamo matematicamente quindi la riconosciamo. Lui che cosa fa? Lui vede prima di tutto esegue questa divisione perché è dentro una parentesi poi il risultato di questa esegue la somma il risultato della parentesi viene elevato a N e il risultato di elevamento a N viene moltiplicato per B esattamente come lo faremo dall'interno verso l'esterno. Dimmi. C'è un simbolo per fare il resto della divisione? Sì. C'è tra due slide. Il resto della divisione. Perché questa è una divisione normale ma poi la divisione in realtà ce ne sono di tre tipi. C'è la divisione tra reali la divisione tra interi che mettiamo il risultato intero e il resto di una divisione tra interi. Come dicevamo se io mescolo numeri interi e numeri reali tipicamente il numero reale vince e quindi il risultato sarà un numero reale. le stringhe per il momento le lasciamo fuori il caso particolare che ha accennato il vostro compagno è quello della divisione in cui l'operatore di divisione è sempre un operatore di divisione reale. Quindi se io faccio divido due numeri interi 7 diviso 4 mi dà come risultato un float un numero reale che normalmente è quello che vogliamo. Se invece vogliamo ragionare sulla parte intera e il resto della divisione quando facciamo sono conversioni di numeri o controlliamo se un numero è divisibile per un altro ci servono queste operazioni allora si usano dei simboli diversi ad esempio la divisione intera si indica con un doppio slash. Allora la divisione intera si può applicare solamente tra numeri interi come dice il nome e il suo risultato a sua volta è un numero intero che corrisponde alla parte intera della divisione abbiamo detto 7 volte intero nella stessa frase e quindi tronca il risultato il risultato 7 barra 4 fa 1 come intero e il resto della divisione si può estrarre usando il simbolo di percento tu dici che c'entra il percento perché sembra una divisione perché c'è la sbarra e i due pallini vabbè pazienza non c'entra nulla con la percentuale il simbolo di percento fa la divisione intera quindi 7 diviso 4 fa la divisione intera che fa 1 ignora il risultato 1 e mi restituisce il resto 7 diviso 4 fa 1 col resto di 3 se non sbaglio quindi tutte le volte che vogliamo controllare se un numero è divisibile per 5 possiamo controllare se il numero divisione intera 5 da come risultato 0 solitamente il resto di una divisione serve per quello verificare multipli e sottomultipli come gli esercizi degli MCD eccetera che abbiamo visto la settimana scorsa se A è multiplo di B basta fare B diviso A divisione intera e controllare il resto quindi la divisione intera ha due risultati o il quoziente intero cioè la parte intera del quoziente o il resto entrambi i numeri interi e funzionano mi piacerebbe dire funziona solo con i numeri interi in realtà non è vero perché funziona anche se i numeri sono dei float ma il risultato non è che abbia molto senso matematicamente Python lo implementa anche per i numeri interi e quindi ad esempio lui qua prende un valore di 1729 penni o 1729 centesimi e lo separa in dollari e centesimi e penni come? vabbè il numero di dollari o euro è il valore di partenza diviso 100 come divisione intera troncato quindi sarà 17 punto senza virgola e i centesimi altro non sono che il valore totale modulo 100 modulo o resto della divisione per cento e in questo caso quindi il modulo sarà 29 1729 diviso 100 fa 17 con il resto di 29 quindi in questo caso usiamo il resto per controllare la divisibilità e a volte per decomporre se ne so io ho mille minuti quanti ore minuti secondi sono 10.000 secondi allora voi la mano lo fate sto quanto qua dividiamo per 60 poi prendiamo il resto dividiamo su a volte ecco questa cosa qua queste operazioni qua si possono fare giocando con la divisione intera e con il resto della divisione intera sono un po' di nicchia non è che uno tutti i giorni queste cose ci sono alcuni esempi di valori poi ci sono chiaramente dei casi particolari cosa succede se il valore è negativo allora vedete la differenza che per definizione matematica di parte intera di un numero la parte intera di 172,9 è 172 ma la parte intera di meno 172,9 è meno 173 perché i matematici dicono è il più grande intero che sia minore del numero e se il numero è negativo il più grande intero minore sarà quello che ha un'unità in meno ok quindi qua implementa le regole che ci hanno dato i matematici non abbiamo inventato niente questa è l'aritmetica con le quattro operazioni di base più la sumatura della divisione più l'elevamento potenza che si scrive col doppio asterisco l'ho fatto vedere prima velocemente l'elevamento potenza si scrive così non col triangolino con la frecciolina ma poi se vogliamo usare delle operazioni aritmetiche più complesse possiamo usare delle funzioni matematiche quadrato la radice quadrata il seno logaritmo tutte queste belle cose che vi hanno fatto oh no vi stanno facendo impazzire non ancora tanto ma lo faranno e quindi la libreria standard di python ci mette a disposizione tutto tutto l'armamentario delle funzioni matematiche che ci servono e funzionano come la funzione print cioè io scrivo il nome della funzione aperta tonda e ci metterò gli argomenti i parametri ad esempio abs è la funzione che rappresenta il valore assoluto quindi il valore assoluto è una funzione che ha un argomento ha bisogno di un argomento di un parametro cioè il numero di cui fare il valore assoluto e restituisce un valore a sua volta quindi queste funzioni matematiche vengono praticamente sempre usate nel contesto di espressioni di assegnazione ad esempio cioè se io faccio cancello questo codice scrivessi a uguale 8 e poi dicessi a valore assoluto di a non fa nulla è come quando prima ho scritto a più b senza memorizzarlo in c non mi va a cambiare il valore di a ok ma mi calcola un nuovo valore che è il valore assoluto di a per poterlo vedere per poterlo memorizzare lo devo assegnare a un'altra variabile in questo caso il valore assoluto di a che l'ho messo in b è uguale da stesso ma se invece a fosse meno 8 vedo che il suo valore assoluto è più 8 e se fosse meno 8.0 cioè un numero reale vedo che anche il suo valore assoluto diventa un numero reale mentre prima era un numero intero quindi cosa fanno queste funzioni matematiche fanno il calcolo che devono fare e mettono a disposizione un valore il valore nuovo che poi di questo valore devo farmene qualche cosa lo devo salvare in un'altra variabile devo se voglio lo stampo subito questo valore lo prendo lo stampo posso stamparlo sulla console mi fa vedere hai stampato 8 poi questo 8 non viene ricordato perché non l'ho salvato di una variabile perché ho deciso di visualizzarlo quindi ricordiamoci che tutte le funzioni che possiamo usare non modificano mai il valore di una variabile sono sempre da usare al lato destro dell'uguale quindi ti calcolano hanno come scopo quello di calcolare un valore nuovo questo valore decido poi io dove metterlo se voglio posso anche metterlo al posto di A A uguale valore assoluto di A si può fare butto via il segno della variabile A quindi ricordiamoci sempre che queste funzioni matematiche devono essere nel contesto di un'espressione più ampia che calcola un valore e devo ricordarmi farne qualcosa di questo valore alcune funzioni semplici sono ad esempio appunto il valore assoluto oppure round è la funzione di arrotondamento quindi un numero reale lo voglio arrotondare all'intero più vicino oppure lo voglio arrotondare al decimo più vicino o al centesimo più vicino cioè con una cifra decimale o con due cifre decimali allora la funzione round può avere un argomento solo che è il numero reale da arrotondare e a questo punto ti restituisce l'intero più vicino oppure posso avere due argomenti il primo è il numero di arrotondare il secondo è il numero di cifre decimali che mi servono quindi se voglio arrotondare al centesimo più vicino scriverò round di x virgola 2 e lui mi dà un numero reale che ha due cifre decimali quelle dalla terza in poi vengono buttate via e vengono approssimate al centesimo più vicino in questo caso oppure prima ho accennato max e min abbiamo delle funzioni che data un numero una serie di numeri mi calcolano qual è il più grande o qual è il più piccolo mi calcolano il valore del più grande tra di essi o il valore del più piccolo tra di essi cioè non mi dicono qual è il più piccolo è il terzo no mi dicono il più piccolo vale 9 e quindi l'esercizio che facevamo la settimana scorsa no di andare a cercare il minimo o un massimo tra una serie di numeri in realtà è già fatto no nel senso che basta fornire i numeri in pasto alla funzione max che mi calcola già esattamente il valore che mi serve a saperlo prima evitavamo del lavoro in realtà non è vero nel senso che molte volte faremo degli esercizi per costruire delle funzionalità che magari già ci sono però nel fare l'esercizio magari uno capisce dei concetti capisce come funziona quel meccanismo ma soprattutto diventa capace a fare cose simili perché se io ho il massimo va bene se io dovessi calcolare invece il secondo dopo il massimo quindi non il primo ma il secondo come faccio non c'è la funzione pronta max 2 per dire che mi dia il secondo dopo il massimo me la devo saper fare e quindi c'erano centinaia di funzioni disponibili ma quella che serve a noi in realtà non ci sarà mai e dovremo imparare a costruirla usando quelle che esistono o usando i meccanismi di base del linguaggio ok quindi noi faremo ogni volta sempre il lavoro non dico doppio ma da due punti di vista diversi uno capire quali sono i meccanismi gli algoritmi con cui si trovano certi risultati e poi se siamo così fortunati che alcuni algoritmi che poi sono quelli magari più frequenti sono già implementati e pronti in qualche funzione non facciamo finta di non saperlo andiamo a studiarlo e questo è un ambito molto ampio nel senso che appunto il linguaggio Python ha una libreria standard se non sbaglio con più di 200 moduli e ciascuno di questi moduli ha tantissime funzioni al suo interno ma se voi andate a questo link vi da una pagina web lunga dovete non finiamo di scrollarla prima della fine della lezione dove sono aspetta non l'ho messo qua va bene pensavo di avere una slide dove c'era una vista d'insieme ma la possiamo aprire qua questa è la cosiddetta libreria standard di Python dove tutti questi voci sono tutti moduli diversi e ciascun modulo contiene una serie di funzioni quindi ad esempio per dirne uno che vi può servire al volo la la c-mat o la mat c'è una libreria mat c'è un modulo mat che contiene tutte le funzioni matematiche reali e qui andate giù e trovate tutta una serie di funzioni e poi tra cui troverete poi anche tutte quelle trigorometriche esponenziali potenze arco coseno insomma tutto quello che ci sarà alla fine ci sono tutte e poi c'è la sua cugina C-mat che lavora con i numeri complessi quindi le operazioni matematiche la potenza la divisione eccetera tra numeri complessi quindi se uno deve lavorare in un dominio di questo genere si trova già qua dentro se dovete lavorare con delle frazioni c'è la libreria che ha delle funzioni che ti permette di lavorare con le frazioni quindi ti fa 3 ottave più 2 settimi e te lo dà sotto forma di frazione avendo il numeratore e il denominatore separato magari ci serve magari no per tutta la vita non ci servirà mai ma se ci serve probabilmente prima di diciamo così fare cose complicate probabilmente andiamo a vedere se nella libreria standard c'è già qualcosa che ci serve sapendo che ci sono appunto centinaia di moduli all'interno di ciascun modulo ci sono decine di funzioni poi vedremo come si fa a usare un modulo ma si usa la parola chiaro che ho accennato prima import per importare nel mio programma le funzioni di quel modulo ce ne occuperemo quindi noi abbiamo tre livelli di funzioni che possiamo usare alcune funzioni sono già predefinite print abs max la uso e basta e non sono tantissime se non sbaglio sono quelle elencate qua quante saranno 40 50 di cui alcune non si usano quasi mai o non useremo quasi mai sono queste solo queste funzioni predefinite che posso usare tranquillamente poi ho le funzioni che sono definite nella libreria standard e quindi sono sicuro che qualunque installazione di python ce l'avrà senza installare nulla di più semplicemente devo importarle con la parola chiave import mat e allora se voglio il valore di pi greco non scriverò come ho fatto prima pi greco ma faccio import mat e poi avrò insomma metto a uguale mat punto p mi pare che si chiami così no forse così eccolo qua importo una libreria che è la libreria matematica la quale definisce oltre che in questo caso definita una costante anziché una funzione va bene e mi fa vedere a questo punto questo valore lo posso usare prendendolo da una costante definita o da una funzione definita all'interno di un modulo mi serve questa import perché appunto essendo così tante le funzioni devo dire qual è ad esempio prima abbiamo citato la libreria matematica e la libreria matematica dei numeri complessi ecco entrambi hanno una funzione che si chiama exp l'esponenziale però fanno cose diverse allora devo sapere se uso mat punto exp oppure cmact punto exp che è quello della matematica complessa ma su questo sulla sintassi delle funzioni c'è poi la scorciatoia per evitare di scrivere ogni volta mat davanti ma non voglio annoiarvi dei sintassi oggi che siamo un po' ancora all'inizio e dobbiamo assorbire tanti concetti quindi funzioni predefinite queste 50 funzioni della libreria standard 2000 quante saranno divise in moduli e se non ci se non troviamo quella che ci serve è possibile aggiungere nuovi moduli all'installazione di python che definiranno a loro volta delle funzioni nuove quindi possiamo fare import di moduli che sono al di fuori della libreria standard ma sono pubblicati su dei siti in cui la gente pubblica librerie aggiuntive quindi ci sono una libreria per fare i grafici ad esempio per fare calcoli statistici magari non c'è una libreria standard vai a cercarla te la trovi su internet e la usi e si usa nello stesso identico modo con l'unica differenza che quella va poi installata direttamente nel tuo progetto allora ovviamente python deve avere questa libreria in più e questo lo si può fare c'è una porzione qua python packages in cui se vado nei python packages mi fa vedere quelli che sono attualmente installati ma se voglio cercare delle librerie in più c'è questo repository che ha questo nome strano pypy che contiene appunto migliaia di pacchetti diversi che posso semplicemente andare a ricercare ed aggiungere prendiamo uno a caso che so uno molto usato è pandas che magari può servire e vi fa vedere che pandas è invece una libreria per fare analisi statistiche non è nella libreria standard è sviluppato da persone indipendenti rispetto a quelle che sviluppano il linguaggio python ma se ci serve clicchiamo su install viene installato dentro il nostro progetto vi ricordate quando abbiamo creato il progetto abbiamo scelto crea un virtual environment all'interno della cartella del progetto quindi viene installata dentro questo cartella di virtual environment e quindi è privata di questo progetto se ho progetti diversi ognuno può avere le librerie diverse non sono obbligato a avere tutto insieme e la posso poi usare noi non avremo bisogno di fare questa operazione per le cose che facciamo in questo corso però la cosa bella è che anche le funzioni di libreria di moduli esterni si usano esattamente nello stesso modo della libreria standard quindi non c'è nulla di nuovo da imparare se non chiaramente le funzioni che ci servono che ci andiamo a trovare ma ciò che impariamo oggi del linguaggio lo riusiamo tranquillamente su altri tipi di librerie come dicevo posso importare delle librerie ma posso anche importare solamente dei nomi di funzione ad esempio mi serve la radice quadrata posso scrivere import math e poi tutte le volte che ho bisogno della radice quadrata dovrò scrivere math.sqrt sqrt è il nome della funzione che calcola square root il nome della funzione che calcola la radice quadrata però se la scrivo tante volte math.sqrt diventa noioso allora quello che posso fare è importare semplicemente solo quella funzione e dico dal modulo math importa la funzione sqrt solo lei e a questo punto posso usare semplicemente il nome della funzione senza metterci davanti math ogni volta è una scelta nostra se uso una funzione una tanto mi tanto vale esplicitare da quale modulo proviene se invece quella funzione la uso frequentemente allora qui tra l'altro posso scrivere più di una funzione sqrt virgola power virgola logaritmo virgola e posso scegliere un gruppo di funzioni che importa e userò nel programma quindi per semplicità da questo momento la uso come se fosse una funzione predefinita tra l'altro in PyCharm lo possiamo anche immaginare se io provassi a scrivere che a uguale s uguale sqrt di 7 mi dovrebbe anche suggerire dopo un attimo mi dice guarda questo nome è rosso non è definito però lo puoi importare e mi fa vedere quali sono le librerie che definiscono questo nome ad esempio quello matematico quindi importa da qua e lui mi ha inserito automaticamente questa riga quindi mi permette già mi guida già nell'importazione dei nomi quindi è un lavoro che scrivendo codice praticamente non mi accorgo di fare noi lavoreremo sicuramente con alcune di queste funzioni predefinite e con alcune librerie non moltissime ad esempio queste sono quelle che usiamo più frequentemente dalla funzione matematica dalla libreria matematica dal modulo math dove troviamo appunto un po' di gestione dei numeri esponenziali radici quadrate eccetera eccetera logaritmi alcune volte trovate consigliata una istruzione di questo genere from math import asterisco questa è una scorciatoia per dire importami tutti i nomi che sono definiti nell'ibreria mat nel modulo mat ecco questo è abbastanza sconsigliato perché io potrei non sapere anzi non essere cosciente di quali sono tutti i nomi definiti lì e allora c'è il rischio che qualcuno di quei nomi che importo vada in conflitto con i nomi delle mie varie variabili quindi è molto meglio essere chirurgici tanto appunto lo fa l'IDE questo lavoro ce lo fa lui in automatico importare solamente le funzioni che usiamo effettivamente e così siamo sicuri di non andare in conflitto con nomi di variabili locali oppure se dovessimo usare veramente tante funzioni anziché importare tutte uno a uno importo solamente il nome del modulo e a questo punto userò una sintassi che si chiama di nome qualificato cioè qualifico il nome SQRT col nome del modulo dentro il quale lo trovo quindi alla fine le scelte sono due importo dal modulo matematico le funzioni che mi servono e basta oppure importo solamente il nome del modulo matematico e ogni volta che ho bisogno di una funzione ci metto davanti il nome del modulo ok? mentre invece questa forma intermedia qua cerchiamo di non farla mai perché ci crea rischio di confusione ecco tra queste funzioni predefinite ce ne sono alcune che ci servono anche a gestire i vari tipi di dati noi abbiamo visto che alcune volte Python fa lui il lavoro cioè se deve sommare un intero con un reale li converte in reale ma se io invece avessi due numeri un intero e un reale e mi interessasse avere un risultato intero cosa posso fare? Eh vorrei magari convertire il reale in intero o viceversa se ho un numero intero lo voglio convertire in reale perché poi voglio farci un'altra operazione allora per questo ci sono delle funzioni come ad esempio int e float che prendono un valore e lo convertono nel tipo di dato corrispondente lo converte in intero ovviamente se questo numero aveva una parte frazionaria questa viene persa oppure prende un intero e lo converte in float poi vedremo che questi meccanismi sono ancora più utili quando avremo anche le stringhe dove potremmo convertire da stringa a numero o da numero a stringa e quindi ci risolverà quel problema che non riuscivamo a fare la somma di una stringa con un numero perché erano di tipi diversi quindi ci sono queste funzioni che molto semplicemente se balance è un numero reale inti di balance è un numero intero che corrisponde alla sua parte intera ottenuta per troncamento quindi non è come round che arrotonda il più vicino ma semplicemente taglia via la parte frazionaria se uno vuole se uno vuole maggior controllo sulla conversione da reale a intero vabbè c'è tutto un ventaglio di funzioni che troncano verso l'alto floor scusate ceiling verso il soffitto verso il basso il floor verso il più vicino round oppure semplicemente troncano la parte decimale e basta queste sono sottilmente diverse perché soprattutto per come si comportano con i numeri negativi potrebbe sembrare che il floor e il troncate siano la stessa cosa cioè troncare la parte decimale oppure arrotondare all'intero inferiore 3.5 e alla fine fa sempre 3 in realtà no perché nel caso di numeri negativi il floor è meno 4 e il trunk è meno 3 nel caso del meno 3.5 quindi però questo non prendetevela con me sono i matematici che hanno queste stranezze con i negativi e noi dobbiamo adattarci l'altra informazione chiave soprattutto quando lavoriamo con i numeri reali è che i numeri reali in un calcolatore sono sempre approssimati mentre i numeri interi sono sono esatti i numeri reali sono approssimati quindi qui c'è un frammento di codice qui c'è scritto provare se volete copiarvelo vederlo ma ci crediamo io definisco un prezzo 4.35 una quantità 100 totale uguale prezzo per quantità quindi ci aspettiamo che 4.35% faccia 435 e spesso con un numero reale sarà 435.0 e se lo provate invece vi stampa una cosa un pochino più brutta 434,999 che non è tanto distante ma non è proprio lui questa è una conseguenza normale naturale del fatto che il calcolatore rappresenta i dati con un numero finito di bit a disposizione quindi non può avere una precisione infinita voi mi dite ma che razza di precisione ti serve 4.35 sono due cifre dopo la virgola non è che ti servono tante capirei di più se fosse 0.3333 non un terzo che già sappiamo che da qualche parte dobbiamo troncarlo e avremo un'approssimazione ecco il problema è che 4.35 ha solo due cifre dopo la virgola in base 10 ma in base 2 è un numero periodico e quindi viene rappresentato in modo approssimativo l'errore di approssimazione è minimo perché vedete che qua sono tante cifre dopo la virgola l'errore relativo è 10 alla meno non so quanto è 10 alla meno 12 dobbiamo contare quanti 9 ci sono però non è mai esatto allora che problema ci dà beh ci dà un problema estetico se stampa effettivamente questa cosa ma soprattutto ci dà un problema algoritmico se mai dovessimo provare a fare dei confronti se io confrontassi se quel total uguale 435 questo confronto non avrebbe mai cioè quando io confronto due numeri reali due numeri float non sono mai uguali perché sono sempre un po' approssimati magari in modo impercettibile ma non sono mai uguali uguali e quindi il nostro mio programma quando si dovrebbe fermare quando quel valore è uguale a 400 non si ferma perché quel valore sarà 399 999 7 e che non è uguale questo per dirvi uno stiamo attenti c'è una precisione macchina con cui vengono fatti i calcoli nei numeri float non è un problema per i numeri interi solo per i float quindi quando dobbiamo stampare qualche cosa ci mettiamo un bel round davanti allora se faccio un round a due cifre decimali lui mi stamperà 435 00 perché ovviamente approssimando le due cifre decimali quei 9 vengono promossi a 10 e se devo fare dei confronti di uguaglianza non uso mai l'uguale ma c'è una funzione apposta che si chiama is close che ha due parametri due numeri reali e si chiede se i numeri sono abbastanza vicini e quindi non uso l'uguale e uso una funzione di libreria che mi fa già il confronto approssimato tra due numeri e non rischio di avere degli errori dovuti alla rappresentazione imprecisa dei numeri ok io qua mi fermo e domani facciamo qualche esercizio nella lezione online qualche esercizio che usa questo tipo di cose per poi ad entrarci nelle string ringraio grazie Grazie.